Salve ragazzi e benvenuti, non perdetevi questa opportunità di guadagno ragazzi, potete guadagnare esattamente 30 dollari in maniera totalmente gratuita e illimitato ragazzi per ogni amico portato è 5 da 5 a 10 dollari, quindi veramente un token ad alto potenziale, un progetto super interessante, potete guadagnare soldi totalmente in maniera gratuita ragazzi. Detto questo seguitemi attentamente sui video perché questo token, questo progetto è veramente interessante, c'è tante cose da parlare quindi seguitemi tutto. Mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati su questi tipi di airdrop, su questi tipi di token, sul progetto Fiskets ragazzi, il progetto Fiskets è nato per guadagnare tutti e creare una rete di guadagno attraverso questi ref, attraverso questi sondaggi, attraverso questi appunto token, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati e iscrivetevi soprattutto al canale Telegram per parlare ogni giorno del progetto Fiskets, e parlare di questi airdrop e parlare esattamente di tutte queste cose. Detto questo andiamo a vedere il sito in questione, il sito in questione si chiama JustToken, è appunto un sito nuovissimo, è un sito dove danno questi JustToken in maniera di prelancio ragazzi per appunto fare pubblicità all'azienda. Ci sarà un mercato attraverso la NFT, attraverso i trasferimenti in exchange, c'è da fare un tante cose, la piattaforma attraverso la blockchain, danno esattamente un sacco di soldi a partire dalla piattaforma, il profitto eccetera eccetera, qui c'è tutto il guadagno che potete avere nel corso dei giorni, andatelo a leggere, è molto interessante, qui c'è la distribuzione del token. Allora, questo c'è da capire bene questo, praticamente ragazzi quindi fra 5 giorni questo token ragazzi sarà listato su CoinMarket il 1 agosto, quindi dovete andare esattamente su CoinMarket e vedere quanto vale ovviamente il token e poi dentro l'azienda, dentro il sito vedete quanto vale. Quindi il 1 agosto andate su questo sito a vedere quanto sta salendo e scendendo, ok? Qui ci dice il 1 settembre ci sarà la presentazione, la conferenza, ci saranno un sacco di cose, praticamente il token salirà secondo me un botto. Il prelancio ragazzi dura 97 giorni, quindi il token ragazzi sarà in saldo per 90-90 giorni, quindi affrettatevi a farlo perché è veramente un progetto super interessante. Questi sono 4 tizi con fondatori, ovviamente non si sa che si sono. Qui ci sono le mail per avere aggiornamenti, qui ci sono il loro socia ragazzi che gli invito assolutamente andare a trovare, 11.000 K in poco tempo. Per ogni referral link ragazzi ci arrivo dopo, qui vi dice esattamente che sono dai 10 ai 5 dollari come ho detto, massimale 50 dollari per ogni persona quando ovviamente il token varrà di più. Quindi ragazzi, alto guadagno. Poi c'è il contratto, questo è il appunto subscribe, il canale Telegram e tutto il resto. Allora, detto questo, cosa dovete fare per avere esattamente 30 dollari gratis e per avere ulteriori 5-10 dollari gratis. Quindi, mi raccomando, attraverso il link di riferimento che trovate sul gruppo Telegram, il link qui in basso sotto il video, attraverso il mio link riceverete i 30 dollari gratis e più 5-10 dollari in maniera con il referral link. Quindi praticamente riceverete più o meno dai 30-35, dai 30 ai 35-40 dollari in maniera totalmente gratuita ragazzi. link di descrizione qui in basso. Attraverso il mio link vi arriverà questa pagina, dovete semplicemente ragazzi andare sul sign up, in alto a destra, registrarvi con email e password e tutto e praticamente vi appare questa pagina. Io attualmente ragazzi ho 625.000 e 625 token di questo token ragazzi. Quindi praticamente ogni 100 vale più o meno 5 dollari ragazzi. Quindi praticamente 600 token sono 30 dollari, 25 token sono 1 dollari e 25 più o meno. fate le cose così. Quindi praticamente voi startate la piattaforma, avete esattamente 100 token, ora vi faccio vedere come vengono 30 dollari, anzi in maniera totalmente gratuita. Qui fa vedere quanto potete guadagnare attraverso il primo round e il secondo round attraverso il loro progetto. Qui c'è il wallet ragazzi potete depositare appunto prendere i soldi attraverso mi ricordo l'Ethereum, questi qui, quindi non c'è il bitcoin potete prenderlo con il shiba, o quello che volete attraverso questi, mettere l'address e prendere il withdraw. Ovviamente questo succederà il primo agosto quando sarà listato. Potete fare lo swap attraverso le crypto, potete fare un sacco di cose, investimenti, depositi, veramente un sito web, bomba. Poi cosa importante potete mettere in stake già la moneta ragazzi, cioè negli stake quando sarà listata la moneta e vi da il 35% al giorno, il 60% dipende ovviamente da quanto ci mettete. Molto molto buona anche questa, quindi dovete andare esattamente su dashboard, andare a mettere i stake e lo fai in automatico ovviamente, dovete mettere la montare eccetera eccetera. Non so se potete farlo giusto da subito, poi mi informerò prima di farlo, anche nel prossimo video mi informerò. Rimanete aggiornati sul gruppo Telegram. Ok, poi cosa c'è da importante da fare? Qui c'è tutto per comprare tutte le cripto monete eccetera eccetera. Qui il cosa importante ragazzi c'è il Fouchet anche. Praticamente ogni giorno se entrate su questa piattaforma andate sul minigame, l'ho già fatto, vi danno esattamente dai 25 centesimi minimo fino al massimo di 250. Ok, ticket fino al massimo di 5000 token ragazzi, assurdo. Quindi minimo 25 token che l'ho beccato io, hanno un massimale di 5000 token. Fate conto che i 25 token sono esattamente 25 centesimi, mi sembra più o meno. Ok, poi altra cosa importante, qui c'è l'agro, qui ci sarà il mercato praticamente appresto fra NFT, Cloud Money e tutto il resto, c'è una serie di cose molto importanti. Il sito sembra veramente fatto bene, il sito vi ricordo il prelancio c'è il primo agosto, quindi ve ne rimanete aggiornati. Cosa importante da dire, questi tipi di airdrop, questi tipi di progetti token, il 70-80% sono validi, il 20-30% possono scammare. Quindi vi ricordo ragazzi per riconoscere questi siti web dovete solamente aspettare cosa succede nei prossimi giorni, quindi dovete solamente aspettare. Cosa importante ovviamente investiteci solamente quando siete sicuri che la piattaforma funziona al 100%, ok? Nulla raga, spero che il video vi sia piaciuto. L'importante ragazzi è iscrivetevi al canale YouTube per i miei aggiornati su quando funzionano questi siti, quando ci saranno proprio di ovviamente eccetera. Altra cosa importante, soprattutto ancora di più, iscrivetevi al canale YouTube, al canale Telegram. Cosa serve il canale Telegram? Per rimanere aggiornati, parlare tutti i giorni insieme, potete scrivere anche voi tutti i giorni su questi vari tipi di token, sul progetto, soprattutto sul progetto Fiskets. Il progetto Fiskets funziona così, che praticamente ragazzi si crea una rete di guadagno per tutti attraverso il resto di questi, attraverso il resto di altri progetti eccetera eccetera, vi faccio guadagnare tutti insieme attraverso questo progetto. Nulla raga, questo è tutto, mi raccomando, rialzate un bel like se ci siete anche a partire e ci vediamo al prossimo video. Bella raga, ciao!